Un mese da ricordare per i treni sulle linee pavesi. È stato quello di agosto, secondo le ultime rilevazioni ufficiali di Trenord, che prendono in esame i ritardi e le soppressioni dei treni in tutta la regione. Soltanto due le tratte finite in bonus, per cui i viaggiatori riceveranno l'indennizzo dell'abbonamento. Si tratta della Lecco Molteno Monza Milano e della Brescia Iseo Edolo, su cui i treni in ritardo variavano dall'11 al 16% di quelli programmati. Due linee interessate marginalmente dai pendolari pavesi, ma le buone notizie finiscono qui. Tra le tratte finite in bonus non figura ancora una volta la Milano Mortare Alessandria, una delle più frequentate dai pendolari Lomellini, che comunque viaggia pericolosamente verso la soglia del 10%, superata la quale scatterebbe il bonus. Va però ricordato che dall'inizio dell'anno sono cambiati i parametri per assegnare il bonus sui ritardi, ora calcolato sui treni quando accumulano ritardi superiori ai 15 minuti e sui treni soppressi per uno standard minimo del 10%, regole con una soglia di tolleranza triplicata rispetto a prima e molto più penalizzanti per i pendolari. Secondo gli ultimi dati di agosto, dei 1.338 treni programmati sulla Milano Mortara, 69 hanno avuto un ritardo superiore al quarto d'ora e 36 sono stati quelli definitivamente soppressi, complice al minore afflusso dei pendolari e la chiusura ad agosto della Pavia Mortara Vercelli per i lavori di manutenzione sulla linea, la Milano Mortara è risultata la peggiore in tutta la provincia di Pavia. L'affidabilità del servizio si è fermata infatti al 7,85%, comunque non sufficiente per finire in bonus. Cosa succederà la prossima volta?